Ciao ragazzi, è arrivato il momento di affrontare questo argomento. Potevo parlarne prima, potevo fare un video quasi una settimana fa, non l'ho fatto. Ho aspettato un po' che si evolvesse la cosa, di avere un po' più di informazioni e di poter dire la mia, riguardo l'addio di Maldini di Massara e del futuro. Allora intanto vi invito, questa è una cosa molto seria, vi invito a prendere le notizie da fonti attendibili. Questo lo dico perché se andate a prendere le notizie su Twitter, dei vari insider della serie Fabio Bergomi, non risolvete niente, non arrivate a niente, quindi io ve lo sconsiglio altamente. Cercate di prendere le notizie da fonti attendibili, quali possono essere la gazzetta dello sport, fonti TV, fonti calcio e finanza, siti attendibili. Perché se la carta si lascia scrivere, potete immaginare i siti internet. Allora intanto purtroppo incontro una vastissima parte dei tifosi del Milan che fino a due settimane fa Maldini out di qui, Maldini incapace di là, Maldini di qui, Maldini di là e poi quando Maldini è stato fatto fuori, sottolineo il fatto, è stato fatto fuori, si sono leccati le ferite e sono andati a piangere dicendo Maldini, 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 Maldini. Allora io voglio essere un po' più obiettivo e razionale su questo discorso e spero di riuscire a farmi intendere da voi. Maldini ci ha riportato in Champions dopo sette anni, ci ha fatto vincere uno scudetto che rigiocato cento volte non lo vinciamo. ma Maldini ha fatto anche i suoi errori perché comunque un operato di una squadra che un anno arriva prima e l'anno dopo sul campo più o meno con la stessa squadra tolto che si arriva quinta, un po' di colpe le dobbiamo attribuire anche a lui. Poi la suddivisione delle colpe tra Società, Maldini, Massara, Pioli, quello è un discorso a parte. Maldini ha portato i vari Mignan, ha portato Leao, ha portato Tomori, ha trovato Calullo, ha trovato Tonale, ha trovato un sacco di giocatori che come talent scout non c'è da dire niente. Però dall'altro lato ha toppato anche certi acquisti perché se le Makers è un acquisto toppato a mille lo è quello di Messias, lo è quello di Origi perché si sa che Origi è stato fortemente voluto da Maldini. Io l'anno scorso ragazzi, prima che Origi fosse ingaggiato dal Milan, andai a vedere le statistiche sue e lui in dieci anni aveva fatto 44 gol. Vuol dire 4,4 gol a campionato, questa non ha fatti due. Vuol dire che per il Milan anche se sei una punta di riserva è veramente ma veramente poco. Infatti, nelle partite in cui ho giocato, tutti avremmo desiderato che si fosse fatto sentire di più. Ripeto, l'anno scorso in Milan ho comprato un giocatore solo, De Kettler, che non si è ambientato come ci aspettavamo. Ha fatto un'annata assai deludente, poteva aver fatto almeno 3-4 gol in questo campionato, molti di questi li ha sbagliati e sottoporta, inspiegabilmente. Nonostante, io tutt'oggi riconosco che le prime 10-15 giornate di campionato lui non le abbia giocate neanche male. Io mi ricordo che più o meno fino alla partita con la Juventus del girone di andata lui almeno due volte metteva l'avversario davanti la porta. Basti pensare alla partita con l'Atalanta, alla partita col Bologna, dove fece anche l'unico assist della stagione. E poi ha avuto sicuramente un tracollo fisico e mentale che l'ha portato a praticamente essere l'ombra di se stesso. Siccome queste cose le abbiamo già vissute, guardate i detonali, guardate anche Kalulu, che primo anno, Kalulu ragazzi, quando entrava in campo ci mettevamo le mani nei capelli. Magari con una preparazione diversa, con tutto un nuovo mondo intorno a lui, questa situazione magari nei confronti i suoi si sblocca pure, fa una buona preparazione, ha questa fiducia in estate e magari il prossimo anno può essere anche un giocatore utile. Non lo potremo mai sapere. Da questo acquiso toppato però deve al fatto che ne sono stati impediti altri, perché il Milan una seconda punta da 15 milioni poteva trovarla, che gli garantisse una decina di gol a stagione, perché se Giroud l'ha pagato 3,5 con 10 milioni, uno che ti facesse 11 gol, Giroud ha fatti 12, potevi tranquillamente trovarlo. Purtroppo i giocatori sono tanti, i posti in rosa sono 30, è anche giusto che i giocatori vadano anche alle altre squadre. Accantone un secondo l'argomento Maldini per spostarmi sull'argomento Pioli. Pioli, Maldini, Massara e Ibrahimovic erano un gruppo solo. Praticamente erano quattro allenatori insieme. E Pioli ha sempre avuto questo sostegno, questo supporto, questa spinta data da queste tre figure, e soprattutto Maldini e Ibrahimovic, che sono state figure che di calcio ne hanno masticato assai. Adesso Pioli è solo. Adesso è abbandonato a se stesso, conscio che la nuova proprietà, come ha fatto fuori quei due, potrebbe far fuori anche lui da un momento all'altro. A me la gestione del Milan da parte di Pioli quest'anno non mi è piaciuta granché. Io infatti da febbraio, marzo in poi, ho maturato l'idea, e nelle valle della direction l'ho ripetuto, 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 che a mio avviso Pioli dovrebbe staccarsi dal Milan per il bene suo e per il bene nostro. Perché io lo vedo tanto vicino a distruggere tutto quello che ha costruito. Perché se comunque quest'anno ti hanno portato una semifinale di Champions, che ad agosto era più che improbabile, è anche vero che abbiamo anche affrontato avversari assai modesti. Abbiamo avuto un girone dove siamo stati sorteggiati come prima fascia, l'abbiamo passato come secondi. Abbiamo affrontato il Tottenham, che ha esonerato il suo allenatore dopo che è famoso per non essere bravo in Europa, dopo una settimana. Abbiamo fatto due super partite contro il Napoli, comunque squadra del nostro campionato, e poi quando abbiamo incontrato una squadra un gradino più su, non ce l'abbiamo fatta. questo discorso ovviamente si può rapportare anche a loro, si può rapportare anche al Napoli stesso, che dico sempre che se le tre italiane che sono arrivate praticamente in fondo avessero incontrato una singola squadra del tabellone della parte sinistra, nessuna sarebbe andata avanti, questa è una cosa che ripeto e sono convintissimo, perché penso che non ci sia altro discorso. Quindi diciamo che Pioli, sì, ti ha portato in semifra di Champions League, però c'è anche da far notare la cosa, che i sorteggi sono stati abbastanza favorevoli. Perché la gestione del campionato, ragazzi, è stata totalmente senza senso. Turnover toppati, formazioni toppate, squadra alla deriva, squadra che nel 2023 ha fatto immensa fatica a segnare. Io non so se il Milan abbia nel 2023, intanto se sia nelle top 6 per quanto riguarda il 2020, da gennaio in poi, e soprattutto non so di quanto sia la differenza goal tra presi e fatti. ricordiamoci che comunque a gennaio ci sono stati i 4 gol della Lazio, i 5 del Sassuolo, e poi ci sono stati i 3 dell'Udinese, una marea di figuracce che veramente mi hanno portato all'esorimento nervoso. E io continuavo a dirvi nei video, ragazzi, non giustificate Pioli per quello che ha fatto l'anno scorso. perché il campionato dell'anno scorso è finito, il campionato dell'anno scorso è andato. Quando hai un campionato sulla maglia, tu lo devi difendere perché quel campionato è finito. Tu hai il dovere di provare a replicarti l'anno dopo. Poi, il Napoli ha dominato il campionato? Sì. L'avremmo rivinto giocando come l'anno scorso? Facendo gli stessi punti dell'anno scorso? No. Sicuramente avremmo dato parecchio fastidio perché gli avremmo dato parecchio fastidio ma non l'avremmo rivinto. Però, data, guardando come è andato il campionato, così dato che la Lazio è arrivata seconda con tutte le figure di merda che ha fatto, l'Inter è arrivata terza con tutte le figure di merda che ha fatto, il Milan è arrivato quinto, barra quarto, con tutte le figure di merda che ha fatto, arrivare secondi quest'anno era un posto praticamente regalato. Cioè, bastava dire all'agosto, voglio arrivare secondo, tieni, vai. Perché arrivare secondi, ragazzi, quest'anno io non voglio sparare alto, ma potevamo arrivarci ad aprile secondi. E magari lì a quel punto affrontare il discorso Champions League in una maniera diversa. io poi sono uno molto 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 non ho pietà nel dire le cose. Io Pioli, siccome sapevo che sarebbe andata a finire così, l'avrei sostituito dopo la vittoria dello Scudetto per fare un passo avanti. Come l'Inter quando torna in Champions abbandona Spalletti per prendere Conte, secondo me, il Milan senza prendere Conte, perché io ripeto che Conte al Milan non ce lo vorrei mai, fare un passo avanti prendendo l'allenatore più bravo. E voi mi direste è chi prendi? Però comunque entrare almeno nell'ottica di farlo. Noi consideriamo questo Scudetto come la vittoria eterna. Forse è lo Scudetto più bello di sempre dal punto di vista di come è stato ottenuto. Però il campionato non si è fermato il 22 maggio dell'anno scorso. Il campionato poi è iniziato un altro ed è stato giocato più o meno allo stesso livello di come si giocava con Gattuso perché è stato quello. E bisogna ringraziare tutti i punti fatti prima del Mondiale. Verona Spezia Fiorentina tutti i punti raccattati nel finale e intanto sono 9 punti in più. Che di questi cazzi 9 punti in più. Senza quella tre vittoria all'ultimo minuto eravamo in Conference League. Quindi sono punti che si sono liberati pesanti come sono stati punti pesanti quelli che abbiamo perso contro l'Empoli contro la Cremonese ragazzi abbiamo fatto due punti contro la Cremonese su 6 in palio questa è una cosa abbastanza vergognosa vincendo andate e ritorno con la Cremonese è il secondo. Ditemi voi la gestione Pioli quest'anno è stata buona? Io non credo. Tornando al discorso dirigenziale il Milan è mano a una persona che di calcio non sa niente non sa cos'è il Milan non sa cosa significa per noi il Milan Cardinale viene dal che cazzo viene dal baseball dal football americano in America lo sport è intrattenimento ed è purtroppo quello che sta diventando il calcio in Europa purtroppo la gente in America va allo stadio non per tifare ma per intrattenersi per divertirsi in Italia la gente va allo stadio anche per soffrire è diverso ma neanche in Italia proprio in Europa c'è un attaccamento che è spaventoso e forse lui questo non lo capirà ma non lo posso incolpare se non capirà mai questo perché forse non sa neanche di che formare il pallone da calcio il punto è che siccome adesso siamo in queste mani e noi non possiamo fare niente facciamoli lavorare prima di dare giudizi prematuri perché comunque io fui uno tra i primi a dire più all out prima che venisse ingaggiato poi mi sono ricreduto e poi quando l'ho ritenuto necessario ho detto più all out no però bisognerebbe fare il salto di qualità questa dirigenza dice che vuole tirare e risparmiare però dall'altro vedete la discordanza dei dei siti web c'è chi dice che questa società non vuole spendere un euro c'è chi dice che questa società vuole prendere questo 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 e quest'altro noi non lo sapremo mai il 31 agosto farò un video dove farò un riassunto vedremo come come si è mosso il Milan quest'estate io ai tifosi del Milan posso dare un consiglio ragazzi date fiducia date fiducia a questa questa dirigenza perché è l'unica che abbiamo e non decidiamo noi chi ci deve stare a comandare può starci bene può starci meno bene ma il Milan lo hanno in mano loro non possiamo fare niente vediamo se le promesse fatte dalle soluzioni interne sono saranno soddisfatte o no io me lo me lo auguro con tutto me stesso è anche vero che spesso purtroppo le soluzioni interne non sono non sono granché perché se si chiama soluzioni interne vuol dire che chi stava sotto a certi individui prende il posto di quegli individui e a volte purtroppo fa dei danni è come quando sono di allenatore allora prendi allenatore della primavera a volte ti può andare bene che prendi palladino e ti arriva nono ottavo a volte ti può andare male che da pioli prendi vecchi o da allegri prendi selorf e la barca affonda quindi tutto ci può stare in conclusione ragazzi a me dispiace per Maldini perché io sono sicuro che adesso Maldini andrà da un'altra parte e si rivelerà quello che è ovvero che secondo me se vai in un top club europeo Maldini preparatevi preparatevi a vederlo sollevare anche qualche Champions League di recente dispiace perché Cardinale non ha avuto rispetto per il Milano non ha avuto rispetto per la società non ha avuto rispetto per la storia siccome adesso tu ti sei fregato con le tue stesse mani ti dico vuoi farti ricredere vuoi che i tifosi del Milano ti acclamino mettiti in gioco comincia a fare comincia subito a firmare carte se lo fai io sarò il primo ad aprirti le braccia il prossimo anno voglio risultati il prossimo anno vinciamo una coppa Italia è qualcosa se il prossimo anno ragazzi giuro noi in fondo all'anno ci portiamo a casa una coppa Italia sono comunque più trofei di quest'anno a me va bene può essere un punto di partenza perché ricordate che un conto sono i trofei botta di culo un conto sono i trofei vinti perché perché lei dovevi vincere questa è la la differenza ragazzi questo è il discorso grossolano su su cosa penso della società perdonatemi la digressione su pioli e sui risultati però era necessaria e nel caso ci terremo aggiornati perché avremo tante tante cose da raccontarci statemi bene datele tutto un bacione